Lei di cosa si occupa? Sono un giornalista. E ha bisogno di un lavoro? Beh, in un certo senso sì. Cosa vorrebbe fare? Traguardo lavoro. Ah, traguardo lavoro. E in quale ruolo si immagina nella nostra squadra? Giornalista, appunto. Ma noi non cerchiamo un giornalista. Beh, comunque so fare tante altre cose. Potete provarmi come opinionista, come consulente, ma anche come ospite. Mi faccia riflettere. Come si dice in questi casi? Ne faremo sapere. Il lunedì alle ore 21 su Rete 8. Traguardo lavoro. Traguardo lavoro è il lunedì alle 21 su Rete 8. Con Mila Cantagallo e Andrea Mori. Dal 25 ottobre alle ore 21. and a la a Grazie per la visione!